musica 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 buongiorno a tutti i minometri benvenuti in questo nuovo episodio delle crazy walls e siamo in compagnia di un ospite nuovo ciao signor morduk ciao ciao e quest'oggi siamo appunto nelle crazy walls ma con i lucky block e ragazzi sclereremo come non mai prima abbiamo fatto una partita oscenamente difficile ma stavolta vinceremo quindi ci vediamo in partita allora tralasciate i miei capelli ultra imbarazzanti alla super saiyan anche se sono neri però dettagli se ho fatto una doccia li ho asciugati però ha deciso di prendere varie direzioni i capelli a momenti sembrano piazza prendete i capelli piazza i miei solo che lui ce li ha più a punta più ok andiamo in partita e come ben ci ricorda il buon mordo cosa andremo a fare in questo momento e andiamo a minare tutto quello che troviamo string redstone gold e cosa potrebbe succedere se noi miniamo che possiamo trovare stanze nascoste e poi ho trovato anche dei lucky block ne ho già due pensa un po' io sto a zero no hashtag rip mamma mia cos'è bello chi dice più hashtag vince madonna sotto nei commenti uccidetevi chi fa più hashtag vince la vita quindi commentate come dannati ed è la sabbia che cade e sparisce bene l'importante è che non ti cade in testa l'importante è che non cade in testa bravo bravo mordu ma guarda già capito come funziona la vita se ti cade in testa la sabbia muori ho trovato una stanza segreta ragazzi una stanza segreta guarda quanta bella roba forse l'ho trovata una si hai trovato una? si dovrebbe essere quella con il sarcofago non voglio sbagliare oh aspetta ecco l'altra sta eccolo ho trovato hai trovato il sarcofago si eh ragazzi siamo meglio di indiana jones ragazzi cioè non potevate aspettarvelo indiana jones ci fa una pippa ok andiamo in superficie e cosa andremo a fare? il bacco penini dei lucky block uno sei quanti hai te? uno come uno? no vediamo cosa esce mamma mia guarda è uscito da me no è uscito un lupo oh raga oh dio posso un lupo guarda il lupo te lo da te tieni e ti fai amicizia ciao lupetto ciao lupetto guarda che carino no perchè mi sta attaccando perchè mi sta attaccando perchè mi sta attaccando perchè mi sta attaccando il lupo aiuto aiuto vedo il lupo vedo il lupo ti devo uccidere signor lupo e uccidilo grazie oh oh si è fermato si è fermato ha capito chi comanda vedi una spadata e capiscono sei secondi ai 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 siamo un po' a rischio siamo un po' a rischio un secondo preparati stanno per andare giù i muri ok muri giù se guardi lì in centro dove c'è super lucky block li comparirà un'arma teoricamente è un arco di solito qua sotto si stanno scannando vieni con me ce ne sono 4 facciamo un po' di casino dove stanno eccoli vai vai oddio ho paura ho mezzo cuore oh no eh t'ha ammazzato è morta è dietro di te dietro di te vai ce lo puoi fare si vai vai allora io credo in te allora mi raccomando prendi le teste che con le teste fai delle golden apple da paura davvero credo che sei rimasto solo tu in tutta la mappa seriamente? si ci sono morti tutti ci sono morti tutti ci sono morti tutti sei rimasto solo tu no della sezione perchè adesso ci sono le altre sezioni ah ecco e lì sarà un bel macello quindi inizia a prepararti sopra c'è appunto un mercante quindi preparati l'armatura tutta in oro bella potente allora vediamo i nemici i nemici stanno tutti al centro li stanno tutti ammazzando c'è anche un blade li stanno ammazzando? si esattamente dalla tua posizione che è lì vedo un tizio però c'è un tizio sopra l'albero sopra lo vedo aspetta ce n'è uno davanti 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 ne hai uno davanti preso bella bella gg complimenti sta mangiando le mele un sacco di carne oh questo qua è anche un piccolo pv pirmi dicono dalla regia mi aiuto fuga fuggatela fuggatela gira a destra ok ahia ma ha preso gira a destra no continua a correre nooo l'ho ucciso sei morto pa ra pa 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 non va erano in due sti maledetti vedo la tua testolina siamo tornati in partita ragazzi stavolta vinceremo perchè so che se noi alziamo le mani e mettiamo 250 like questo video noi vinceremo ovviamente vero? è bellissimo invece c'è una zona segreta ho trovato una zona segreta anch'io, così a random bello, tagliamo il fuoco sennò ci brucia gli oggetti e lì iniziamo il casino stringhe, poi il soffitto trapaniamolo tutto suona un po' male si, suona molto male, però non lo capiranno mai non lo spero allora, se gli scaviamo in gritti non c'è nulla peccato, allora, dai io ho solo due lucky block che sfiga ho ah, due? io non parlo perché se no faccio brutta figura anche zero? zero no, non ci credo, questa partita ci odiano proprio apriamo i lucky block che ne abbiamo pochissimi stavolta, io ne ho solo due frecce e, oh mi ha spawnato qualcosa io ce n'ho uno silverfish, li utilizzerò dopo oh, questo ci mette alberi, soia un po' frecce va buono, va buono 10 smeraldo, prendiamo la spot potente questo è trolling time ah, è vero, non posso aggiuntare anche il resto 8 secondi 7 6 ci stanno guardando brutto quelli ah no, villagero stanno a guardare ok dai, ce la posso fare eccoli non arriva oh la sinistra la nostra sinistra vai, frecciali frecchiali tutti aspetta, questo ce ne occupiamo aia via, via, via no, è scappato aspetta, ha cambiato, ha cambiato questo ce ne ha 16 questo muore attento, attento nel maledetto vai, dietro batte, 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 batte vai, vai, non ce la faccio aspetta fialo, fialo, fialo no manca strada al muro il maledetto madonna lezzo sudicio dai muori vai, spaccalo, spaccalo eh, è arrivato pure l'altro eh, figa cotoletta batte stanno mi imbuco, mi imbuco, mi imbuco, mi imbuco non mi vedranno mai sto piegando pure la schiena sembra così non mi vedranno mai ok allora gli altri muri cadranno tra un minuto aspettare un minuto guarda, stanno tutti qua sopra sono tutti in team stanno in due eccolo, arrivo aia aia no, no, no sacco di schifo lezzo ragazzi per nostra sfortuna abbiamo perso infatti cioè noi trovavamo il lucky block ma loro erano troppo forti secondo me shoppavano tutti mamma mia shopponi maledetti su Clash Royale lo sapevo mannaggia a loro quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale Morduk che è sotto in descrizione oltre ai vari link ci vediamo a un prossimo video tutti i giorni alle ore 18 ed attenzialmente Morduk è tutto ciao a tutti alla prossima